Ciao, nel video di oggi andiamo a vedere perché se tu hai più di 30 anni può essere una buona idea quella di approcciare donne al giorno. Io sono Gio Di Lorenzo e questo è seduzionattrazione.com Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante. Se ti interessa la seduzione ho anche un canale Telegram chiamato Gio Di Lorenzo dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti. Quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. Dunque, partiamo da un presupposto, ragazzi. Tutti i miei video sul campo che io ho prodotto a scopo educativo visto che qui parliamo di approcciare il giorno sopra i 30 anni sono video fatti esattamente in queste condizioni. Approccio il giorno sopra i 30 anni. Quindi di conseguenza, tanto per cambiare quando parliamo di formazione in questa industria beh, mi sembra di essere l'unico che fa quello che predica. Ora, quindi, la prima cosa che tu vuoi capire e il motivo per cui può essere importante una scelta intelligente è quella di approcciare di giorno, o meglio anche di giorno oltre che la notte, se tu hai 30 anni è dato dal fatto relativo alla demografica di donne che tu trovi di giorno. Infatti, se tu vivi in una grande città e hai un'età sopra i 30 sicuramente troverai dei locali notturni che sono targetizzati. Ovviamente più ti sposti in avanti in questa fascia d'età dai 30 in su e più ovviamente diminuiranno quelle che sono le serate per la tua fascia d'età in quanto diminuiscono le persone che sono interessate ad andare in locali notturni oltre una certa. Però di solito, noi tutti lo sappiamo comunque il grosso dell'offerta che viene proposta alle persone che vanno in discoteca è un'offerta che va dai 16 18 25, 27, 28 non è la regola ma questa è di solito la fascia d'età che i gestori di questi locali cercano di attrarre per ovvi motivi in questa fascia d'età semplicemente le persone sono più numericamente interessate ad andare nei locali. Di nuovo, non significa che non puoi trovare dei locali targetizzati per la fascia d'età stiamo solo parlando in termini statistici. Ora, comunque, quello che io ti sprono a fare se tu sembri ancora quantomeno giovanile e non appari ridicolo in un locale che attrae una fascia d'età ad esempio intorno ai 25 beh, ti consiglio di andarci. Ti consiglio di andarci perché, comunque, anche in un locale di questo tipo se tu sei capace ti tieni bene ti tieni in forma non sembri un 35enne che in realtà sembra un 55enne e, via dicendo in realtà troverai ancora ragazze interessate a te. Detto questo, in ogni caso, vuoi considerare un paio di cose. Se tu ti sei curato di quella che è la tua sfera economica e sociale in realtà tu potresti naturalmente attrarre certe ragazze di questa fascia d'età perché hai solo qualche anno in più ma rispetto ai tuoi concorrenti della loro stessa età hai quella che viene definita dai americani avere la propria shit together e questo può essere attraente per alcune ragazze di quell'età. Il contro, tuttavia è dato dal fatto che le donne intorno ai 25 sono in quello che è il tetto del loro valore sul mercato sessuale 25 è il tetto per la precisione parlando in termini medi e questo significa che è anche un target che è più difficile attaccare proprio perché sono nel momento in cui ricevono maggiori feedback positivi dagli uomini gli uomini sono maggiormente interessati a loro quindi da un lato tu puoi far valere cose come esperienza maturità la tua posizione sociale il fatto che hai ottenuto delle cose nella vita e quant'altro per differenziarti da alcuni di quelli che sono i tuoi concorrenti ma al tempo stesso ricorda che seppur non è un target impossibile di attaccare è un target difficile perché la natura madre natura vuole che sia così più difficile quantomeno mettiamo le cose come stanno quindi questo ci porta a fare un po' di considerazioni devi sicuramente attaccare quel target ma in ogni caso ti conviene anche attaccare un target un po' più maturo che quindi sta perdendo quello che è il proprio valore sul mercato sessuale il valore di queste donne che vanno dai 25 in su va a decrescere sul mercato sessuale e quindi sono più disponibili e in secondo luogo donne che sono più facili molto virgolettato cioè un po' più mature in realtà ti renderanno la vita più semplice soprattutto quando tu sei all'inizio nell'imparare questa roba e molti di voi moltissimi di voi sono all'inizio quelli che guardano questo canale quindi dovremo un po' giocarci fra un target più giovane e uno un po' più maturo per massimizzare quelle che sono le nostre chance di risultato ora la pura verità e qui torniamo alla demografica da cui siamo partiti è che molte donne sopra la fascia di età 25 plus hanno smesso di andare in quelli che sono i locali notturni o ci vanno molto più raramente e ripeto troverai se vi è una grande città dei locali targettizzati ma voglio dire l'offerta che tu puoi trovare paragonata a tutte le possibilità che hanno ragazzi più giovani sarà diversa mentre il giorno invece non ha filtri perché tutti camminiamo per la strada durante il giorno non solo oltre a questo ci sono donne che non sono interessate ad andare nei locali notturni a priori indifferentemente da quella che è la loro fascia di età e proprio per questo il giorno ti permetterà di imbatterti per i motivi che abbiamo visto anche spesso e ripetutamente in dei target che saranno per te un po' più facili ora questo ha un pro e un contro il contro in realtà ci interessa poco nel senso che diverse donne in questa fascia di età potrebbero essere fidanzate se lo scopri semplicemente non hai perso molto prendi e te ne vai ok viceversa se queste donne sono ancora single statisticamente parlando saranno più ricettive al tuo approccio anche se non è perfetto questo non significa che tu puoi fare schifo perché le tue skills devono essere sempre e comunque quanto meno sufficienti a fare una buona impressione su quella che la donna o la ragazza in questione però significa che proprio perché queste donne hanno un orologio biologico che etichetta sono ancora single saranno mediamente più ricettive di una ragazza che invece magari è molto giovane e quindi quando mettiamo tutti questi pezzi dell'equazione insieme vedi che ha molto molto senso se tu ti trovi in quella fascia di età imparare anche quello che è l'approccio di giorno non solo potresti anche essere molto vicino a una fascia di età in cui magari tu non hai più voglia di andare in discoteca non hai più le energie perché il tuo lavoro ti stanca non è compatibile per la tua vita professionale andare così tanto in discoteca o semplicemente non hai più amici che ci stanno andando non non ci vuoi più andare e vuoi una fonte alternativa di contatti e il giorno ti può dare questa fonte alternativa stop non scappare subito primo ricordati di iscriverti al canale secondo vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo in questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare ad usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo quindi clicca il link a destra per accedere a questi video ciao da Joe di Seduzione Attrazione